Ciao, sono Simona e sono un'insegnante di italiano. Sono madrelingua italiana e insegno da ben 5 anni. Insegno a tutti i tipi di età, dai bambini agli adulti, da chi comincia ora o da chi è già esperto. Vuoi imparare italiano? Perfetto! Contattami, non vedo l'ora di conoscere nuovi studenti. Ah, sono certificata DITAS dall'Università di Siena, quindi le mie competenze saranno a tua disposizione. A presto!